Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play Ita. Oggi siamo su Space Flight Simulator, un gioco uscito da pochissimo perché è uscito il 18 di febbraio di quest'anno ovviamente e costa 12 euro. Questo è appunto Space Flight Simulator, lo andiamo a vedere, non sarà un video diciamo eccessivamente lungo perché il gioco è appena uscito e il gioco si promette di essere costantemente aggiornato e poi hanno aggiunto nuove features e diciamo che non c'è diciamo al momento una quantità di contenuti per farci una serie o un video molto lungo. Vi voglio far vedere e darvi il mio giudizio su questo simulatore che ricorda molto Kerbal Space Program, ma è quello a cui volevo comunque arrivare. Cliccando qui avrete la possibilità di vedere dei video tutorial, noi lo iniziamo, abbiamo modo di creare un mondo selezionando il sistema solare, poi sarà possibile spero in futuro dal workshop magari scaricare altri sistemi anche inventati. La partita che andremo a vedere è in modalità realistica, quindi tutto in scala 1 a 1 e tutto. La modalità, l'unica attualmente giocabile è la classic, ci sarà la carriera, non vedo l'ora, e la sandbox. Noi giochiamo la realistica e la giochiamo appunto con la costruzione di razzi. Allora io vi faccio vedere un paio di cose, giusto per cominciare. Ricarico il razzo solito, che si usa anche su Kerbal, perché il metodo di costruzione, se attivate la modalità simmetria, diciamo che vedete che potete spostare, anzi facciamo così. Vi faccio vedere la costruzione di un razzo da zero. Usando la modalità simmetria va a posizionarlo, quindi mettiamo tutto uguale, insomma, da una parte e dall'altra. Andiamo a mettere il separatore, così anzi molto importante è lo scudo termico, il separatore, che poi prende la distanza da solo, e poi il motore. Qua abbiamo la possibilità di scegliere la grandezza, da base, 6, 8, 10, 12, i motori, abbiamo le aerodinamiche, le fairings, che sono quei cose, diciamo, di copertura, insomma, che proteggono la struttura, insomma, e poi si aprono inoltre nello spazio, le varie strutture, e tutto il resto. Quindi qua abbiamo anche la possibilità di costruire delle ruote per dei rover, delle gambe, e dei, mannaggia, docking port, eccoli qua, docking port. Perché avrà senso in questo gioco fare anche delle stazioni spaziali, ma andiamo a vedere. Intanto iniziamo, non ci sono stadi, perché siamo noi a deciderlo in tempo reale. Noi adesso mettiamo il motore al massimo e facciamo ignition, scusate, tolgo ignition, perché devo cliccare sul motore e fare on, e via. E poi con Q e D daremo la direzione, perché il motore è direzionale. Quindi in questo caso, vedete qua sotto, ci dà una piccola guida sulla direzione. Come vedete qui abbiamo il nostro, diciamo, punto di partenza. C'è anche qualcosa che è caduto qua, delle parti di razzo. Adesso, a breve, rimarremo senza carburante, quindi dovremo atterrare. Abbiamo fatto i 15 km di altitudine, siamo leggerissimi, con spazio c'è l'ignition o meno, ma per il resto Z, X, sono gli stessi tasti di Kerbal. La possibilità di attivare gli RCS che non abbiamo. In questo caso, vedete, per staccare, basta cliccare. In questo caso, possiamo andare a orientare. Qua ci dà la direzione, la traiettoria che stiamo tenendo, perché non è tutto in proporzione a quello che abbiamo di fronte a schermo, ma in base alla forma del pianeta. E quindi tante volte, magari, se andremo sotto sopra, perché vedete che questo è il pianeta, se siamo sotto qui, per tenere la direzione giusta, dovremmo essere in questa direzione qui che vedete. Ovviamente, quando arriveremo sotto, il gioco ci farà l'animazione della rotazione, insomma, ci rimetterà dritti, insomma. Però, quello è il senso. Ora, possiamo accelerare i tempi, accelerando fino a 100, stiamo raggiungendo, siamo usciti praticamente dall'orbita, dall'atmosfera, e ora ricominciamo a scendere. E quindi, in questo caso, andiamo a scendere nuovamente. Vedete che adesso rientriamo in atmosfera. Nostra cura metterci nella direzione giusta, perché a breve subiremo lo scontro con l'atmosfera. E come in Kerbal, non possiamo aumentare più di un tot, quando siamo a contatto con l'atmosfera, quando siamo troppo vicini al pianeta. Qua ci dà la temperatura, abbiamo scaldato i motori, ma per poco tempo, attivo il paracadute, sgancio il questo, e sotto i 500 metri possiamo, cliccando, dargli l'input di aprirsi completamente. Sotto i 1500 potete aprire il paracadute, se non ricordo male, sotto i 500 invece potete aprire completamente il paracadute, andando a rallentare la discesa. Quindi, adesso aspettiamo, possiamo aspettare anche un po', che è il suo consiglio di IBU 90. Ok, cliccato, ed è fully deployed. Quindi, in questo caso, stiamo scendendo... e verso il pianeta, insomma, abbiamo questa distanza in centinaia di metri, vedete che stiamo atterrando. La grafica è molto spartana, ma funzionale, perché comunque mi aspetto che vengano aggiunte tante cose. Cioè, avendo una grafica semplice e un gioco prevalentemente in 2D, questo ci dà molte possibilità. Posso raggiungere degli achievement, tornare a costruire il razzo nuovo. Ma prima, voglio farvi vedere una cosa adesso. Io prendo un razzo che ho già fatto, il prova 3, che è un razzo bello grande, bello importante, perché questo è grande. E soprattutto, le cose interessanti, è quando mettete una parte grande e una parte piccola, la parte grande si adatta, e quindi andando a creare... Questo non è un adattatore, ma è serbatoio. Quindi c'è dentro proprio carburante, quindi prende la forma e lo fa somigliare un po' più, magari una sorta di Saturno 5. Ma la cosa che io voglio farvi vedere è questa. Guardate il pianeta. Non c'è niente al momento, però guardate il pianeta. Io vado indietro. Questa è l'atmosfera. Questa è il nostro pianeta. Ma non è finita qui. Abbiamo la luna, piccolissima, e andando indietro ancora, adesso non lo vedrete, perché lo si vedrà quando usciremo in partenza. Quindi la prima cosa che facciamo adesso è andare a lasciare il pianeta, quindi andare a dire al sistema di avviare questo motore, questo motore e questo motore, ignition e via. Gli diamo potenza e vedete che è. E ho fatto analizzare anche la fisica. Ibu Novanta, che lui è comunque esperto in queste cose, in chimica e fisica, è un ottimo conoscitore, insomma, acculturato. La cosa che mi ha detto è che praticamente se noi adesso girassimo il razzo completamente in orizzontale, non si distruggerà, cioè verrebbe distrutto dalla forza che ci spinge verso l'alto. In gioco non succede. Quindi il gioco viene visto come un punto unico il razzo e non come magari succede su Kerbal con tutte le varie parti. Cioè si percepisce un po' la pesantezza, possono magari oscillare un pochino i razzi qui, quelli a lato, che servono a dare una mano, però non c'è quella simulazione fisica. Però siamo solo agli inizi, quindi lasciamolo fare, insomma. Adesso stiamo andando. La cosa che è interessante è la possibilità di esplorare tutto il sistema solare e pianificare esattamente il modo in cui farlo, come succedeva su Kerbal, ma in 2D. Nel senso che, qualora volessimo raggiungere immagini del sistema solare e tornare indietro, questo ci sarà praticamente impossibile farlo dalla Terra. E perché no? Non costruiamo una stazione spaziale intorno alla Terra riempiendola di carburante e mandandoci le nostre navi a farci rifornimento? Questa è una cosa molto interessante. Ora stiamo cercando disperatamente l'orbita. Adesso per l'atmosfera ce ne manca ancora un po', perché vedete che noi siamo qui, l'atmosfera adesso è una settantina di chilometri e dovremo raggiungerla. A breve, se io spegnessi uno dei due motori o se uno dei due motori si spegnesse prima dell'altro sarebbe un problema perché la razzing per il caso si inizierebbe a ruoteare. Mi è successo. Una cosa interessante che potete fare è cliccando con uno e poi il destro sull'altro trasferite il carburante da uno all'altro e questo rende tutto molto più semplice piuttosto che menu, trasferimenti, tubi, insomma lo fa in automatico. Quindi se volessi adesso trasferire il carburante che ho qua dentro vabbè che è maggiore però decidessi di trasferirlo da qui a qui cliccare qui e poi qui e potenzierei il carburante di questo. Ovviamente avrei un problema perché si spegnerebbe questo e questo rimanebbe acceso solo questo e inizierei a ruotare su me stesso. Abbiamo lasciato l'atmosfera abbiamo raggiunto lo spazio possiamo iniziare il nostro movimento verso la ricerca dell'orbita dell'orbita. Siamo a 132 km secondo me stiamo facendo un'orbita un po' sbagliatina comunque ora a breve avremo finito il carburante dai due razzi non solo diciamo il carburante solido ma liquido in questo caso sgancio il primo e sgancio il secondo no ok vedete che cliccando andiamo a sganciarlo ora a breve finirà il carburante anche di questo e andremo a sganciare l'ultimo a breve siamo all'1% abbiamo ancora un 100% di questo ultimo razzo vedete lo stacchiamo e se ne va ora diamo un'occhiata alla nostra altitudine abbiamo 500 metri vediamo se ora posso vedere ok vedete qua si vede la luna siamo usciti andiamo indietro ancora venere mercurio giove marte qui e questo è il sistema non hanno messo urano nettuno credo non li vedo a meno che non siano molto più lontano ma dubito no e questo è il sistema solare con i pianeti esplorabili ovviamente ora il mio dubbio è non abbiamo tolgo l'ignition potenzio questo al massimo via non abbiamo il pianificatore di manovra almeno credo da quello che ho visto e quindi per andare sulla luna sarà un bel pari di maniche dico la verità perché a meno che non c'è un modo non ci sia un modo per no possiamo distruggere e focalizzarci su quindi niente sarà veramente da tenere d'occhio come gioco perché se andate a vedere anche su steam vedete dei docking vedete tante cose interessanti come la possibilità di appunto creare stazioni farle attaccare ovviamente ovviamente non avete non avete o mini non avete nulla nel senso che anche quando vedete che il video su steam si atterra su marte c'è il rover e c'è il rover insomma non c'è molto altro però l'esplorazione può essere interessante adesso proviamo a metterci un po' più piatti e vedere se aumenta ok dai proviamo a metterci in orbita vedete che la direzione è piatta ma piatta per lo schermo ma non per il pianeta quindi qui aumentiamo ancora abbastanza l'altitudine dovremmo tenerci forse un po' più girati così che siamo un po' più paralleli diciamo al pianeta comunque l'orbita sta andando anche abbastanza bene direi di esagerare un po' con la direzione vedete che adesso stiamo per completare e breve avremo l'orbita eccola qui e siamo in orbita ufficialmente siamo in orbita molto eccentrica però abbiamo l'orbita in questo caso cambia anche la musica e possiamo attivare anche gli rcs e vedete che adesso funzionano gli rcs ci muoviamo più agilmente c'è il tasto anche vasd per muoverci nelle varie direzioni quindi in caso di attacco poi resta un kerbal in 2d ma senza che è comodo non avendo il 3d anche i docking un altro pari di maniche andare a intersecare giusto una stazione ma senz'altro non difficile come un 3d ora riduciamo la nostra orbita e scendiamo dalla parte opposta del pianeta quindi in questo caso diciamo che mi definisco già pronto per l'orbita quindi inizio già a mettermi in concomitanza della freccia e più di una volta ho rischiato di di finire addosso ai miei detalliti perché i detriti poi scendono vedete che adesso noi siamo qui e i detriti stanno scendendo con noi c'è anche una discreta ipotesi che ci rifiniamo addosso perché è qua e noi siamo qua spero di non fare disastri comunque acceleriamo un pochino siamo a 600 chilometri di altitudine e non possiamo girarci mentre siamo vedete che adesso siamo praticamente quasi sotto il pianeta e quindi il pianeta ufficialmente è qui non qua sotto e a breve poi probabilmente ci farà una rotazione vediamo intanto continuiamo a scendere e infatti vedete che stiamo scendendo a vista d'occhio 100 chilometri 182 scusate l'atmosfera è qui a breve ci entriamo ok e vedete che adesso ho fatto la rotazione quindi anche se siamo sotto vedete qui ci ha ruotato tutto in modo da renderci tutto più comodo a livello di visualizzazione ora scendiamo 80 chilometri orientiamo correttamente la nostra capsula 50 chilometri a 30 magari iniziamo già a prendere una botta forse anche qualcosina meno sì infatti siamo entrati nell'atmosfera lo scudo si sta scaldando ma non in maniera preoccupante avevo messo le gambe per atterrare sono esplose perché bisognerebbe copairle diciamo con una con uno scudo termico ok abbiamo siamo sopravvissuti siamo a un'altitudine di 12 chilometri il paracadute non si apre sotto ho prima detto erroneamente 1500 ma in realtà sono 2500 quindi a 2500 metri apriamo il paracadute intanto velocizzo giusto per farvi vedere tutto ok ok rimane aperto a metà ma intanto rallentiamo parecchio e sotto i 500 gli diamo un altro boost e quindi lo apriamo completamente e poi andiamo giù tanto la velocità è già accettabilissima quindi anche se lo facciamo a 300 200 no magari 200 non la rischio adesso vai ok aperto del tutto intanto vedete che ci avviciniamo alla parte opposta non ci sono achievement perché appunto non c'è la carriera non vedo l'ora della carriera perché sarà veramente interessante mix a quello che è un po' scienza fisica e semplicità il gioco non ho sganciato vabbè lo scuro termico ma pazienza e la missione va finita cioè non c'è altro da fare recuperiamo insomma abbiamo aggiunto i 1201 gradi abbiamo aggiunto l'orbita bassa e siamo tornati sulla terra destroy exit main menu questa è la nostra partita questo è space flight simulator è interessante senza dubbio non ha molti contenuti ma nulla vi vieta di costruire un razzo pianificare tutto per arrivare che so su marte ed esplorarlo con un rover ci sono i pannelli solari quindi insomma potete girare con un rover ovvio sarebbe più bello con delle missioni con una carriera con un budget da gestire missioni da fare ma diamo tempo al tempo perché all'inizio dal mio personalissimo punto di vista il gioco è assolutamente promettente 11 euro e 99 uscirà penso ufficialmente forse dico nel giro di un anno se non ricordo male con un aumento del prezzo del 20-30% quindi non tantissimo rispetto al prezzo di adesso però diciamo che se vi interessa approfittate l'eura con questo io vi saluto vi ringrazio e vi rimando al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao